Ciao, in questo video vediamo uno studio completo di funzioni, si tratta di una funzione irrazionale fratta e puoi trovare altri esercizi con altre funzioni nella playlist dedicata a funzioni derivate integrali, trovi i link in descrizione. Dato che lo studio di funzioni è un esercizio abbastanza lungo e articolato su più punti, io consiglio nella prima pagina di lasciare spazio per indicare tutti i risultati e anche rappresentare il grafico della funzione che verrà realizzato mano a mano, che vengono trovati i vari risultati e nelle pagine successive fai tutti i calcoli. Quindi seguendo questa tabella cominciamo con il dominio della funzione, è una funzione irrazionale fratto, c'è un denominatore x più 1 che deve essere posto diverso da 0 e poi c'è un'espressione sotto radice quadrata e quindi tutta l'espressione deve essere posta maggiore o uguale di 0. Quindi dal denominatore ricaviamo che x deve essere diverso da meno 1. Per quanto riguarda invece la disequazione, non possiamo eliminare il denominatore perché non sappiamo se è positivo o negativo, quindi se fosse negativo dovremmo cambiare il verso di disuguaglianza. Allora per risolverla si studia separatamente il segno del numeratore e del denominatore. Il numeratore è positivo per x maggiore o uguale di 1, mentre il denominatore è positivo per x maggiore di 1. Quindi i nostri valori di riferimento sono 1, meno 1 e poi qua di nuovo meno 1 che l'abbiamo già indicato, per cui collochiamo questi numeri su una retta orientata, meno 1 e 1 e indichiamo il segno del numeratore che sarà meno meno più più perché diventa positivo per x maggiore o uguale di 1, quindi prima è negativo, il segno del denominatore che sarà meno più meno e poi con la regola del prodotto troviamo il segno della nostra espressione fratta. Meno diviso meno fa più, meno diviso più fa meno e più diviso più fa più. Inoltre ricordiamo che se x è uguale a meno 1 la funzione non esiste, quindi qua mettiamo il simbolo di non esiste, mentre se x è uguale a 1 la funzione vale 0 perché viene 0 a numeratore. Quindi in definitiva il dominio va da meno infinito a meno 1 escluso, c'è questo intervallo qua perché deve essere positivo e poi da 1 compreso perché 0 va bene fino a più infinito, quindi da 1 a più infinito. Quindi nel nostro foglio principale con i risultati indichiamo il dominio che abbiamo appena trovato e mentre abbiamo calcolato il dominio abbiamo anche trovato altri elementi, ad esempio abbiamo trovato che il punto A1,0 è un'intersezione con l'asse x perché studiando il segno abbiamo visto che se x vale 1 la funzione vale 0 e quindi passa per il punto A1,0 e sicuramente non ci sono intersezioni con l'asse y perché il dominio esclude x uguale a 0 che sarebbe l'asse y. Inoltre sappiamo anche il segno della funzione che è sempre positiva. Infatti la radice quadrata è una funzione definita positiva perché la parte sotto radice deve essere per forza maggiore o uguale di 0 e se poi facciamo la radice quadrata il numero rimane maggiore o uguale di 0. Per cui possiamo già disegnare il nostro piano cartesiano, non è necessario fare il terzo e quarto quadrante perché è sempre positiva e cancelliamo le parti che non ci interessano. Quindi ho cancellato tutta la parte negativa perché la funzione non scenderà mai sotto l'asse x essendo sempre positiva e ho cancellato la parte compresa tra meno 1 e 1 qui in grigio, vedete che ho cancellato. Inoltre sappiamo che passa per il punto A e quindi l'ho indicato nel piano cartesiano e dal punto A chiaramente poi partirà positiva perché non può essere negativa. Ora vediamo se ci sono delle simmetrie, cioè se la funzione è pari oppure dispari. Per farlo calcoliamo f di meno x, cioè mettiamo meno x al posto di x e si ottiene radice di meno x meno 1 fratto meno x più 1 e quindi si vede che non è né pari né dispari. Infatti se fosse stata pari avremmo dovuto ottenere f di meno x uguale a f di x, ma questo non è capitato. Invece dispari se f di meno x è uguale a meno f di x. Invece abbiamo ottenuto qualcosa di completamente diverso, quindi non è simmetrica né rispetto all'asse y, come quando è pari, né rispetto all'origine, come quando è dispari. Quindi qua scriviamo né pari né dispari. Ci sono periodicità? La risposta è no perché tipicamente ci sono solo nelle funzioni seno e coseno e tangente, nelle funzioni goniometriche. Ora vediamo come si comporta la funzione agli estremi del dominio e capiamo se ci sono degli assintoti. Cosa significa calcolare il limite agli estremi del dominio? Allora, il dominio va da meno infinito a meno 1 e da 1 a più infinito e quindi questi sono gli estremi per cui calcoliamo il limite per x che tende a meno infinito, qui. Poi c'è da meno infinito a meno 1, quindi il limite per x che tende a meno 1 meno, meno perché vogliamo studiare il comportamento un po' prima di meno 1. Poi inizia 1, ma è superfluo calcolare il limite di x che tende a meno 1 o più, perché 1 è compreso e quindi noi sappiamo proprio quanto vale la funzione nel punto 1, non ci serve sapere quanto vale la funzione vicino al punto 1 a destra. E poi va da 1 a più infinito e quindi alla fine calcoliamo il limite per x che tende a più infinito. Allora, calcoliamo i vari limiti. Per x che tende a meno infinito il limite vale 1 o più. Come abbiamo fatto a capirlo? Perché sotto radice c'è una funzione fratta e quando x tende a infinito contano solo le x di grado massimo, quindi x fratto x che fa 1. Perché 1 più e non 1 meno? Perché 1 per eccesso? Un trucchetto pratico per capirlo velocemente. Prova a mettere al posto di x un numero molto basso, tipo meno 1000. Allora se fai la radice rimane ancora un po' più grande di 1 e quindi tende a 1 più. Viceversa se x tende a più infinito con un ragionamento analogo si ottiene 1 meno. Ora, dato che per x che tende a infinito i limiti sono uguali a un numero reale, vuol dire che in corrispondenza di questo numero reale c'è un assintoto orizzontale, ovvero la retta y uguale a 1 è assintoto orizzontale. Perché quando la funzione diventa sempre più grande o sempre più piccola si avvicina sempre di più a un certo valore e quindi diventa orizzontale. Calcoliamo ora il limite per x che tende a meno 1 meno. Sostituiamo meno 1 e vediamo che cosa succede. Si ottiene al numeratore meno 1 meno 1 che fa meno 2 e al denominatore meno 1 meno più 1 che fa zero meno. Un numero fratto zero non è una forma di indeterminazione ma dà infinito e per la regola dei segni, dato che zero meno è negativo, viene più infinito. La radice di più infinito fa sempre più infinito. E questo vuol dire che la retta x uguale meno 1 è un assintoto verticale, o meglio un semiassintoto perché solo una semiretta che è assintoto, solo la parte in alto. Nella parte in basso la funzione non è definita perché ha valori positivi. Ora conviene mettere subito quanto trovato sul grafico per capire meglio le cose. Abbiamo detto che y uguale a 1 è un assintoto orizzontale e quindi disegniamo questa retta tratteggiata che è l'assintoto e poi ricordiamo che la funzione tendeva a 1 più per x che tende a meno infinito e quindi parte da qua un po' sopra l'assintoto 1 più. Invece un po' sotto l'assintoto, cioè 1 meno, per x che tende a più infinito. E poi c'è l'assintoto verticale x uguale meno 1 che è questo qua. E quindi la funzione parte da qua in alto ma era per x che tendeva a meno 1 meno, quindi solo da sinistra. A destra non c'è la funzione, infatti avevamo cancellato. Occupiamoci quindi dei massimi relativi, dei minimi relativi e dei flessi a tangente orizzontale. Questi sono tutti punti stazionari, cioè punti dove la derivata prima è uguale a 0. Quindi calcoliamo la derivata prima. È una funzione composta che al suo interno contiene una funzione fratta. Questo è il risultato. Nella playlist trovi due lunghi video dove faccio esercizio sul calcolo delle derivate, se hai delle difficoltà le puoi guardare. Semplifichiamo la derivata, allora moltiplichiamo numeratore, poi x e meno x si semplificano e otteniamo questa espressione. Notiamo già da qui che questa espressione è sempre positiva. Infatti abbiamo solo termini positivi. I numeri sono positivi, la radice quadrata è sempre positiva o nulla, mentre x più 1 alla seconda è un quadrato, quindi è sempre positivo. Per cui derivata sempre positiva vuol dire che la funzione è sempre crescente. Attenzione, è crescente nei due intervalli dove è definita. Poi passando da un intervallo a un altro intervallo può anche diminuire come valore, cioè può fare un salto, ma negli intervalli è crescente. E questo vuol dire che non ci sono punti stazionari, quindi non ci sono massimi o minimi relativi o punti di flesso tangente orizzontale. Comunque finiamo di semplificare la derivata, possiamo semplificare il 2 col 2 e poi scrivere tutto sotto un'unica radice, quindi questo elevato alla seconda mettendolo sotto radice diventa elevato alla quarta e quindi possiamo semplificare x più 1 con x più 1 alla quarta che diventa x più 1 alla terza e quindi la derivata è uguale alla radice quadrata di 1 fratto x meno 1 per x più 1 alla terza. Quindi nella nostra sintesi scriviamo che non ci sono punti stazionari perché è sempre crescente nei due intervalli. Ora vediamo se ci sono punti di non derivabilità. Per trovare i punti di non derivabilità si confronta il dominio della funzione col dominio della derivata e si osserva che se x vale più 1 questo numero non fa parte del dominio della derivata perché verrebbe qua 0, quindi uno 0 denominatore, mentre va benissimo come dominio della funzione. Questo vuol dire che il punto x uguale a 1 è un punto in cui la funzione non è derivabile. Ma il motivo è molto semplice perché nel punto x uguale a 1 la funzione inizia proprio dal punto 1 e quindi è chiaro che non ammette la derivata sinistra perché la derivata è il coefficiente angolare della retta tangente e la retta tangente è quella retta passante per due punti per il punto a e per un altro infinitamente vicino ad a però a sinistra ma a sinistra non c'è niente e quindi come punti di non derivabilità specifichiamo che non esiste la derivata sinistra nel punto x uguale a 1. Per trovare i flessi obliqui dobbiamo calcolare la derivata seconda, infatti ricordiamo che la derivata dà la concavità della funzione. Se la derivata seconda è maggiore di 0 la funzione è conversa, se invece la derivata seconda è minore di 0 la funzione è concava e i flessi sono quei punti dove cambia la concavità. Quindi calcoliamo la derivata seconda, per brevità ho messo qui direttamente il risultato finale e vediamo che la derivata seconda è uguale a 0 nel punto x uguale a 1 mezzo. Infatti la derivata seconda è uguale a 0 se è uguale a 0 il numeratore perché una frazione è uguale a 0 se e solo se è uguale a 0 il numeratore, quindi si ottiene x uguale a 1 mezzo. Però un mezzo non fa parte del dominio, ricordate il dominio non c'è da meno 1 a 1 e quindi in pratica la derivata seconda non è mai nulla e quindi non ci sono flessi né a tangente orizzontale né a tangente obliqua. Ora che abbiamo capito che non ci sono né massimi né minimi né flessi possiamo semplicemente unire le parti di grafico nel modo più semplice possibile appunto senza massimi, minimi e flessi, ottenendo quindi un andamento di questo tipo. Lo studio di funzione è completato però consiglio sempre di fare un confronto col grafico prodotto da una calcolatrice scientifica e vediamo che quanto abbiamo fatto è corretto. Ti lascio il link alla playlist funzioni derivate integrali dove troverai tantissimo materiale sia per il quinto anno di scuola superiore sia per gli esami di analisi dell'università.